ok bella bella ragazzoni in codicchia 7 cosmica fase 3 innanzitutto andiamo in creative ed andiamo a inserire il nostro codice vi farò subito vedere qual è quindi andiamo a mettere il nostro codice ragazzi questo è il codice e questa è la mappa ragazzuoli ci lanciamo e andiamo subito a fare l'incarico l'incarico elimina i giocatori a bordo di un xs4 a bordo di un x4 ragazzi la missione è semplice lo diceva la stessa frase quindi si sale sull'aero e si fanno eliminazioni dall'aero ragazzuoli come metà raggiunto l'ultimo terminazione la missione è completata come sempre spero che il video vi sia stato utile bella 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 bella